Tutti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, Venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più. E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Questo è un palcoscenico veramente impressionante. Prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Si è cominciato subito. Primi tocchi di gioco. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Ma io penso Luke Shaw. Un terzino che a me piace molto. Le sue capacità difensive non si discutono. Salah! Si iscrive al tabellino dei marcatori. E guardate che ha segnato. Uno che nelle prime pagine dei giornali è di casa. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. La gioca a sinistra. Pogba! Il Manchester United al calcio di punizione. RASHFORD! Conclusione sul fondo. Ha fatto tutto bene, ma ha concluso malissimo. LINDELOF! 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 RASHFORD! BRUNO FERNANDES! Ottimo il fraseggio. Può tentare... Miracolo di Geisler! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Il Manchester United si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Il Manchester United al calcio di punizione. Spazza via Sezza Fronzoli. Ecco Lewandowski. Non impenserisce la difesa. C'è la palla lunga in avanti. C'è la palla filtrante. Cerca lo spunto! LINDELOF! LAVERNIA! BRUNO FERNANDES! MEGUAE! Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Calibra un bel pallone. Può concludere! Ha segnato! Una conclusione assolutamente imparabile. Il portiere ci ha provato, ma il tiro era troppo angolato e il palo non l'ha certamente aiutato. Si riparte. Di nuovo in parità. I continui capovolgimenti di fronte rendono questa gara semplicemente fantastica. BRUNO FERNANDES! BRUNO FERNANDES! Oggi sta trovando pochi spazi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. è stato un bel primo test squadra, hanno realizzato una rete a testa. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un test caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Si ricomincia. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Decidono di giocarla all'indietro. Gioca una palla lunga. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Lavernia. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria. La loro azione si conclude qui. McTominay. Bruno Fernandes. Sicuri in fase di palleggio. Occasione da rete. Bruno Fernandes ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allontana il pericolo. Ripartiranno con una rimessa laterale. Artur. Riceve in ottima posizione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Opportunità di ripartire. Bruno Fernandes. È riuscito a passare. Cerca il tiro. E c'è il gol del Manchester United. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Fantastico. Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Fred. Bruno Fernandes. Greenwood. Nello spazio cerca l'idea. Rashford! Insacca le spalle del portiere! Due gol in più. È partita saldamente nelle loro mani. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Rashford! E questa era veramente una grande occasione. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Sbroglia la situazione. La gioca in profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cinque minuti ancora sul cronometro. Greenwood. Fred. Rashford. Colpisce il pallone. Non si fermano più. Ancora segno. Vantaggio di tre reti. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il Manchester United ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Vantaggio di tre reti. Piuttosto rassicurante, direi. I rapporti di forza. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che è risultato. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Ha portato la... Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Palinko di tre reti. Guardano. Cardio. Grazie a tutti